dunque appunto eh è stato già richiamato nel che come eh è stato sono stati costituiti i tavoli tecnici e quello dello stress a eh cinquanta partecipanti a livello tripartito quindi ci sono le parti sociali, datoriali, sindacali, dal punto di vista tecnico c'è eh ci sono gli operatori ATS e ci sono anche le SST che è la peculiarità lombarda, le UOMLA eh oltre che anche eh figure eh scientifiche come eh eh universitari. Devo dire che mentre d'accordo eh così tanti soggetti eh autorevoli è difficile perché bisogna mediare qualcuno spinge al minimo e qualcuno invece vuole fare un salto eh anche giusto vuole una fotografia più ampia ecco è il discorso dello stress e i fattori psicosociali è questo. Ehm l'obiettivo è fare come dire dare indirizzi tecnici eh linee di indirizzo, linee guida, un supporto alla realizzazione dei piani mirati di prevenzione a livello a livello locale e il monitoraggio dello stato di avanzamento avanti. Qua eh enfatizzo il prossimo. Eh se non lo faccio. Grazie. Ok. E poi c'è la formazione. La formazione è fondamentale eh a livello territoriale eh eh è messa in campo da ciascuna TS sia in termini di seminario informativo iniziale che seminario eh formativo per la verifica del processo e si parla di schede di autovalutazione poi ve lo accennerò che è un seminario informativo diciamo finale che mette a fuoco le evidenze eh venute fuori dal dall'intervento fatto. Mh eh noi eh però stiamo già pensando e credo lo faremo in ambito di ATS eh della eh in città di Milano anche una formazione pre tutto questo eh da parte per per gli operatori eh delle ATS. Un corso di otto ore evidentemente lo faremo dopo la definizione del piano mirato e e però li li faremo una sorta di formazione ai formatori perché questa è la dinamica. Eh io vi dico velocemente eh il il decreto che è stato eh del 13 marzo eh verrà pubblicato a a breve eh a noi ci è sembrato utile inizialmente fare una linea guida eh sui criteri di individuazione dei settori produttivi dei gruppi d'azienda. Perché? Perché mh eh volevamo non eh monopolizzare l'intervento su un solo settore ma diversificarlo in termini di peculiarità territoriali. Chiaro che l'ATS Valpadana ha eh un tessuto produttivo diverso dall'ATS eh di città di Milano. Quindi anche per eh capire eh cosa poteva venire fuori dal eh eh dall'intervento su più settori. Anche casomai settori non eh storici come possono essere quello sanitario eh sul sul problema dello stress. Quindi eh abbiamo usato due criteri interessanti un macro indicatori di contesto e i criteri epidemiologici. Sui macro indicatori eh di eh contesto che sono undici ce ne sono otto e sono eventi sentinella e tre potenziali buone pratiche. Adesso non mi dilungo molto ci sono gli indicatori e ci sono le fonti e fonti potenziali di recupero del dato. Infortuni, aggressioni, segnalazioni formali da parte dei laboratori servizi PSAL delle ATS per problematiche correnate allo stress, segnalazioni al medico competente o visite mediche straordinarie effettuate dal medico competente per problematiche stress lavoro correnati, i famosi ricorsi avversi al giudizio del medico competente eh all'ATS che sono prevalentemente focalizzati su problematiche eh stress lavoro correnate. Richiesta di approfondimento da parte dei lavoratori o da parte del medico competente presso gli ambulatori secondo livello della SST lì dove c'è una ci sono ambulatori stress lavoro correnate eh sullo stress diciamo stress mobbing ma adesso si chiamano tutti sui disturbi associati allo stress e richieste di part time perché questo si è visto un indicatore di disagio soprattutto eh eh come dire nel periodo covid. L'altro sono potenziali buone pratiche. Una cosa che ci ha insegnato io qui non mi dilungo la il covid è che ci sono soluzioni eh lavorative tecniche che possono se gestite bene possono essere in alcuni ambiti settoriali utili possono favorire eh come dire il eh la conciliazione vita lavoro ma possono anche essere come dire efficienti se orientati a a a come dire a ben gestiti eh sul proprio sul lavoro quindi sono in due indicatori sullo smart working e uno sulla presenza di sportelli di ascolto interno. Come vedete sono eventi sentinella non solo sullo stress ma anche su fattori psicosociali. Poi ve lo vedrete bene e non è il solo questo poi ci sono i criteri epidemiologici. Abbiamo voluto eh eh come dire costruire un archivio con trecentoquarantaquattro documenti per adesso. Adesso vi faccio vedere come come è articolato proprio perché mi sembra che socializzare le conoscenze sia il primo passo cioè rendere più facile perché se ti io mi sono messo su internet ho cercato oltre le mie conoscenze cioè per facilitare questo lavoro abbiamo preferito dare un prodotto eh articolato che possa essere eh eh come dire accessibile a tutti e guardate ecco questo è l'abstract che all'inizio dell'archivio definisce bene lo scopo. Lo scopo è di dare eh di di definire un archivio documentale che pur non essendo esaustivo possa fornire materiale aggiornato utile a tutti i sistemi a tutti i soggetti del sistema di prevenzione in ambito aziendale alle parti sociali, sindacali e a più e più in generale a tutti i soggetti interessati. Adesso vi faccio vedere velocemente come si struttura. Come vedete sono trecento quarantaquattro documenti. C'è una raccolta iniziale qua accordi normative linee guida che sono i i documenti fondanti nazionali internazionali, normative nazionali, normative linee guida, documentazione della regione Lombardia e delle altre regioni. Guardate che è veramente ricca il la 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 documentazione. Secondo sono documentazioni di enti e istituzioni internazionali, ILO eh organizzazione mondiale della salute. Poi ci sono europei e qui c'è l'OSHA, OSHA, Esener e Eurofound che sono secondo me un un una fonte enorme di dati sia in termini eh di documenti di linee guida ma anche in termini di eh studi, intagini. Poi ci sono quelle nazionali in in Ispes. Poi la eh terza raccolta al 2B documentazione di associazioni professionali. Qui ho messo il chip perché riconosco che la consulta sia una fonte enorme da questo punto di vista informativa perché avete proprio come dire nel vostro DNA eh nell'approccio dei vari rischi eh l'idea di anche di rendere eh disponibili tutti i documenti e e da questo punto di vista il consenso il primo documento di consenso è molto interessante. L'altro è documentazione ecco questo è interessante valutazioni del rischio strumenti oltre a quelli nazionali che sono variegati anche per settori ci sono quelli internazionali facendo un'indagine per esempio in Svizzera la secco oppure eh il Belgio oppure la Francia oppure anche la Germania anche se il documento forse qualcuno eh che in lingua tedesca eh che la sala può capire però le tools che sono lì sono molto interessanti sul documento tedesco quindi abbiamo voluto dare una una sorta di raccolta di strumenti sia per settori che per dimensioni aziendali per esempio eh come dire la Svizzera Belgio si focalizza molto su eh tipologie di attività eh medio piccole la eh la quarta è eh la raccolta su documentazione per settori produttivi fact sheet eh strumenti di VDR report e via di seguito sono una decina eh avevamo già fatto durante il CCM i fact sheet di nove settori che era stato un lavoro interessante non so chi gli ha chi la visti però eh secondo me sono schede utili sia nella valutazione eh dei vari fattori come dire di contesto e contenuto legati allo stress che le soluzioni eh la documentazione sui rischi psicosociali quindi violenze molestiche sicuramente eh eh il più corposo il tecnostress tutto l'aspetto legato al covid e al eh e fattori psicosociali pensate eh qui vi dico una cosa ci sono molti studi sul cosiddetto long covid e soprattutto su effetti a livello psicologico eh cognitivi memoria attenzione concentrazione questo ha un un impatto grossissimo sul lavoro e quindi eh è importante l'altro sono strumenti di VDR sui rischi psicosociali anche qui e altra documentazione infine c'è una documentazione sulle misure di gestione e eh stress lavoro correlati a rischi psicosociali come buone pratiche evidentemente sono più lo più fonti europee su questo e poi su due aspetti che sono la conciliazione vita lavoro e il lavoro agile dentro il quale c'è tutto il problema dello smart working quindi questo sarà un un archivio ehm accessibile a tutti a tutti daremo un link nel decreto che verrà emanato e ci sarà la possibilità di inviare documentazione e e poi c'è un link per l'accesso alle a diciamo a quelle quei siti importanti dal punto di vista del anche dello stress lavoro correlato ecco velocemente il programma faremo titolo giugno settembre ci stiamo già lavorando la linea guida per l'attivazione del piano mirato di prevenzione a Valenza regionale italiarizzare a cura delle ATS e poi abbiamo un gruppo che sta cercando di definire documenti integrativi agli atti di indirizzo soprattutto sul medico competente sulla proprietezza efficacia della sovranza sanitaria svolta dal medico competente per quanto riguarda la gestione dell'impazzo sulla salute del rischio stress lavoro correlato attraverso anche eh eh lo vedremo lo sarò velocissimo anche un affondo sul sulla questione UOMLA perché le UOMLA hanno cinque sei ambulatori dedicati con il medico e anche i psicologi ecco poi lo lo dico qua vabbè è il modello del eh del piano mirato di prevenzione con le quattro azioni e qui è quello che abbiamo fatto stiamo discutendo questo è un po' il lo schema del del documento che faremo prima di tutto enfatizziamo l'ambito provinciale ex articolo sette come eh fondamentale per concordare l'intervento poi c'è una eh pubblicizzazione in termini di comunicazione anche in genere sui siti web delle ATS sull'intervento che è importante la convocazione di un seminario noi abbiamo individuato questo è meglio trovarsi non voglio dire niente sul sugli interventi a distanza però in un'ottica di seminario la relazione può essere eh anche di chiarimento può essere più efficace dovrà essere specificato il cronoprogramma degli interventi e poi siamo orientati anche cioè l'intervento nelle ATS sarà fatto in una logica di eh portare a galla eh buone pratiche sia sullo stress che sui come gold standard sulla valutazione e gestione dei rischi psicosociali. Il secondo passaggio è l'informazione e la formazione quindi definire le figure destinatarie della formazione da parte delle ATS attivare eh interventi informativi formativi utili allo sviluppo del piano mirato e anche orientare nell'ambito formativo orientarsi sulle buone prassi. Eh poi c'è la scheda di autovalutazione che il terzo passaggio direi che questo è importante mh ce n'è una buona non perché io vengo dalla brigante ero in ospedale a Monza ma Cecchetti aveva fatto veramente un bel lavoro ai tempi e anche come dinamica dell'intervento del piano mirato e tanto è vero che la scheda che eh si era eh definita eh la recuperata anche a Solombarda una parte datoriale e la messa sul sito accessibile alle sue aziende. Eh vi sono poi schede di autovalutazione nel lavoro interregionale interessanti a Sardegna le Marche eh possono essere definite anche schede di autovalutazione per settore tipo Toscana e poi anche per le buone prassi c'è un bel eh come dire documento nel settore sanitario RSA della Emilia Romagna come buone pratiche di sorveglianza sanitaria. Tutta questa documentazione attiene all'inter regionale interregionale vuole anche pensare a fare un archivio anche qui accessibile vedremo se interagire eh efficacemente su questo. Va beh mh vado veloce ecco dico solo questo eh faremo anche un documento integrativo sulla sia sui medici competenti definizione di strumenti per la valutazione dell'impatto sulla salute del rischio stress dando gli altri anche strumenti stiamo ragionando per esempio nel col per il workability index che secondo me è molto interessante come approccio di eh valutazione eh delle eh del un po' globale eh dell'impatto sulla salute un po' di direi dei rischi psicosociali. Eh i criteri di per l'invio dei laboratori agli ambulatori di secondo livello da parte dei medici competenti che sono uno stakeholder di invio ricordo che gli ambulatori hanno un accesso tramite il servizio sanitario nazionale con un codice particolare quindi chi prescrive è il medico di medicina generale evidentemente però poi ci sono stakeholder che mirando l'invio ovviamente con criterio eh possono operare eh e favorire l'invio. Dico che in tutte le imprese Milano che storicamente era eh come dire il centro più grosso eh eh sono mille duecento mille trecento visite che fanno le UOMRA presso i loro ambulatori dedicati e poi c'è la promozione della qualità eh dell'efficacia dell'attività degli ambulatori UOMRA. Adesso abbiamo definito già due schede per i stakeholder sanitari e non sanitari cioè eh quelle check inviate dal che permettono l'invio mirato non so gli stakeholder non sanitari sono gli sportelli sindacali e gli stakeholder sanitari possono essere gli specchi oltre i medici medicina generale gli specialisti e gli stessi medici competenti. Un problema è fare rete perché quando tu prendi in carico eh questi lavoratori in sofferenza devi avere poter fare rete con i servizi specialistici sia psichiatrici che di psicologia è più semplice farlo in ospedale perché eh sono all'interno delle SST. Un problema critico che abbiamo visto ma questo riguarda tutta Italia non solo noi è la scarsa riconoscimento noi già denunciamo cioè le SST gli ambulatori denunciano dal 5 al 10 per cento dei soggetti che accedono alle loro al al agli ambulatori. Eh di questi solo il 2-3 per cento viene riconosciuto come malattia professionale e questo è un problema. Eh il sottogruppo GT si è già stato detto tantissime regioni vado velocissimo perché il tempo è tirannino come si suol dire ehm strumenti di autovalutazione su questo ci stiamo lavorando ultimamente abbiamo definito anche uno strumento di autovalutazione di orientato alle buone pratiche perché questo è il problema ehm gli ambulatori di medicina del lavoro, la comunicazione, l'intersectorialità e ehm eh non è questo non è mai partito però se noi potessimo avere un archivio di buone prassi capite che noi diamo un segnale alle aziende della fattibilità di un intervento che non è teorico ma può essere pratico e eh il confronto con linea e la violenza e gli eventi aggressivi. Questi sono tutti gli atti formali, le buone pratiche, i resoconti di attività, le linee di indirizzo fatte dalle varie regioni, ci saranno almeno una quarantina di documenti e credo che coordinandosi ha fatto un buon lavoro eh di Giorgio eh e dice che noi siamo forse il il sottogruppo dove più si è sviluppato questo discorso di strumenti eh eh utili eh di di misura e di orientamento alla prevenzione. Ok io vi ringrazio. Grazie a tutti.